Wewe ragazzi e bentornati, oggi vedremo l'esecuzione Fucile di precisione Art Deco, fucile ad alta precisione a media lunga gittata che infligge una discreta quantità di danni In caso di emergenza può sparare raffiche più veloci ma molto meno precise Allora ragazzi questo è con una velocità di ricarica Mentre questo con zero velocità di ricarica Quindi ovviamente sapete già cosa sto per dirvi? La velocità di ricarica è d'obbligo su quest'arma A meno che voi vogliate ricaricare quest'arma con un effetto davvero a rallenti Mettere la velocità di ricarica secondo me è una tra le prime opzioni Comunque abbiamo un doppio danno critico, un livello critico, velocità di ricarica, elemento natura Perché questa ha i danni aumentati contro i nemici di tipo acqua Vi ricordo inoltre che ora fortunatamente comunque queste perk possono essere cambiate Quindi non dobbiamo più aspettare le armi che più ci piacciono a noi Semplicemente possiamo portarci su un'arma e poi provarla nelle varie versioni Allora comunque l'esecuzione è un cecchino veramente particolare Molto differente comunque da molti altri cecchini Sicuramente non il migliore, sicuramente non il migliore nemmeno per congelare Però nel suo piccolo complesso è risultato veramente comodo E veramente forte da utilizzare in qualsiasi circostanza Beh chiaramente come ogni cecchino non potete aspettarvi di difendervi da tutti gli zombie che vi pusheranno in massa Però c'è un grosso però Se gli zombie che sono comunque in massa e non diciamo una densità come quella di un accampamento Ma che comunque arrivano da una certa distanza tipo una missione Beh in quel caso è abbastanza veloce, abbastanza forte e abbastanza veloce anche a ricaricare il caricatore Per poter difendere il nostro obiettivo appunto da una lunga distanza Vi ricordo che comunque è possibile utilizzare quest'arma con un colpo singolo È possibile utilizzarla a raffiche tra virgolette di due colpi Ed è possibile anche tenere premuto il tasto di fuoco per effettuare queste due raffiche di colpi il quanto più velocemente possibile Quindi sfruttando appieno la cadenza di tiro di quest'arma Possiede anche un caricatore abbastanza capiente di 8 colpi infatti Quindi sparando raffiche di due colpi sparerete un totale di 4 raffiche E si spera che comunque in queste 4 raffiche entrino molte botte critiche Ed è vero in questo video non ho il totalmente rock Utilizzo i buffer per comunque boostarmi leggermente il danno Ma preferisco sempre mettere il ritorno di fiamma su queste build Nel suo complesso ragazzi questo cecchino vi dico la verità non mi dispiace neanche fin troppo Anzi utilizzarlo da una lunga distanza contro appunto tanti zombie in numero Beh è molto molto preciso il proiettile ci mette pochissimo tempo ad arrivare al bersaglio Molte volte mi sembrava addirittura magari di mancare certi zombie invece li uccidevo lo stesso E questo non è da tralasciare perché comunque è molto versatile è molto comodo da utilizzare come cecchino E così diciamo che l'unica pecca di questo cecchino può essere l'ultima perk Se lo possedessi personalmente non lo farai mai di natura semplicemente perché ho il cecchino tubo vuoto già di natura Mi va benissimo comunque sia per danneggiare sia per infliggere danno La cosa che non ho probabilmente è un cecchino ad acqua un cecchino di fuoco a parte quelli del set black metal Però questa è una decisione che prenderemo con calma si sa poi nel futuro in base a molte risorse e molti progetti che abbiamo Non lo so ragazzi voi cosa ne pensate di questo cecchino Ammetto che ovviamente non è l'obliteratore non è il cecchino al neon cioè non possiamo comunque darle un difensore e aspettarci che faccia le cose che faccia con un obliteratore D'altra parte utilizzarlo personalmente devo dirvi che comunque non mi è dispiaciuto neanche fin troppo Personalmente non lo inserisco nella mia top 3 di cecchini ma nella top 5 top 7 secondo me ci rientra molto volentieri E il set art deco diciamo che questo in sostanza non è un set veramente fortissimo non è neanche un set da tralasciare indietro secondo me Ci manca ancora qualche arma di questo set da recensire e da vedere insieme E sapete girare questo video non è stato molto semplice in quanto cercare tempeste d'acqua con un cecchino di natura in questo periodo che le missioni a 4x sono tutte di fuoco È stato leggermente difficile non ve lo nascondo Quindi anche questo fatto merita assolutamente una menzione C'è da dire che comunque tra poco introdurranno le venture ci sarà uno stravolgimento secondo me su salvo al mondo ragazzi L'hype è altissimo E dovete anche considerare che comunque in queste venture ragazzi non potremo utilizzare le nostre armi bensì solamente le trappole Perché vi ribadisco questo? Perché al momento vi consiglio di non sprecare ulteriori risorse per potenziare armi per potenziare diciamo maggiormente le perk delle armi Anche perché i materiali da evoluzione quali gocce di pioggia, fulmino in bottiglia, occhi della tempesta insomma sono relativamente semplici da farmare piuttosto che gli stravantaggino Perciò se nelle venture possiamo utilizzare solamente le trappole ancora non è chiaro comunque il meta che possiamo utilizzare Quindi non sappiamo se potremo fare che ne so missioni FK quindi sfruttare gli sbalzatori e i lanciatori da muro Non possiamo sapere magari faranno qualche cambiamento al metagioco Ci sono armi per esempio il lanciapale di neve che diventeranno veramente fortissime Congelare i nemici in gruppo su un'arma esplosiva secondo me è una cosa pazzesca Insomma ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione Magari qualche cambiamento a qualche trappola piuttosto che qualche trappola in più Bisogna anche vedere come saranno queste venture e come andranno svolte veramente Quindi il mio consiglio è tenetevi gli stravantaggi per appunto sprecarli sulle trappole quando uscirà questa modalità E per il resto ragazzi siete liberi ovviamente di fare quello che volete Il mio resta solo un consiglio Ovviamente essendo una cosa nuova è ovvio che cercheremo comunque di sfruttarla al maggior tempo possibile no? Anche perché secondo me sarà una cosa studiata veramente bene per farci grindare ancora di più Magari con un po' più di piacere E che dire non ci resta che aspettare per il momento Per questo video era tutto ragazzi Spero di essere stato abbastanza chiaro Spero soprattutto che vi sia piaciuto Fatemi sapere con un commento voi soprattutto cosa ne pensate L'hype è a mille Ricordiamoci ragazzi che tra poco ci sarà un bel aggiornamento E per oggi è tutto Restate sintonizzati perché presto arriveranno moltissime novità Bella bella Ciao 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 Grazie a tutti